Bro, l'insulina nel bodybuilding ti ammazza, ti uccide, non prenderla, fa schifo, ti fa diventare grassa, ti sporca, spariscono le striature dei muscoli, lascia stare, è robaccia bro. La più pericolosa, la più dannosa, con l'insulina puoi morire, diventi una palla di lardo. L'insulina nel bodybuilding ti sporca e basta. Ma è vero? Oppure queste sono solo delle grandi e grosse bagianate? Un saluto da Simone, vostro nutrizionista, allenatore e coach. Oggi parliamo di insulina, nello specifico di insulina nel bodybuilding. Ah, Simo, l'insulina ha rovinato il bodybuilding. L'insulina e GH hanno determinato la crescita di questi stomaci distesi, di questa babboca. L'insulina ha rovinato la qualità muscolare. L'insulina fa male, l'insulina uccide, l'insulina ti fa ingrassare. Sì, però peccato che ci siano milioni di persone che oggi prendono insulina perché è un farmaco. Quindi vediamo di capire un po' come funziona e vediamo di capire perché può essere utile nel bodybuilding e perché tanti bodybuilder decidono di prenderla, ma soprattutto perché tanti bodybuilder sbagliano a prenderla. Quali sono le bagianate che si fanno con l'insulina? E sono tantissime perché negli anni ne ho viste veramente troppe. Ma prima di cominciare, vai sul gruppo Telegram dove parliamo sia di insulina, di testosterone, in tutto quello che riguarda il bodybuilding natural, quindi anche dieta e allenamento, e non. E seguimi, seguimi raccomando, a sto giro noi dobbiamo andare a Los Angeles, andiamo un pochettino nella West Coast, quindi facciamo un po' quel giro lì, magari ci vorremmo anche San Francisco, insomma andiamo a fare un giro nella West Coast che non si sa mai. Ci trovano qualcosa di interessante. Seguimi su Instagram, Facebook e TikTok. Poi, come sempre, è troppo sbatti andare lì, cliccare mouse, fare, iscriverti perché cosa? Campanellina per vedere poi questo qua che ti parla tutti i giorni di steroidi, insulina, bodybuilding, muscoli, cose, lascia stare, è troppo sbatti. Ma noi, adesso, come sempre, ma è venuto male. Questo è buono. Andiamo al video. Partiamo col dire che cos'è l'insulina. L'insulina è un ormone, è l'unico, l'unico, insieme all'IGF1, insulin-like che è un ormone anabolico, o meglio, solamente anabolico, che ha solo funzioni anaboliche, fantastico, anabolismo, costruzione, quindi solo funzioni di costruzione, ci fa costruire palate e palate di massa, non solo massa muscolare, poi vedremo bene che cosa. Quindi è un ormone che viene utilizzato anche chiaramente per gestire la glicemia, ma è un ormone anabolico, teniamo bene questo in mente. Vediamo poi, nello specifico, ma in maniera comunque abbastanza semplice e elementare, che tutti possiamo un po' capire, che cos'è questa insulina. Ciò lo spiega il dottore. Insulina, ormone peptidico prodotto dalle cellule beta delle isole dell'angras, del pancreas, quindi è una piccola parte del nostro pancreas. Che cosa fa l'insulina? Abbassa la glicemia, riduce la quantità di glucosio nel sangue, portandola appunto dal sangue stesso alle cellule. Prende quindi nutrienti, non solo il glucosio, ma il glucosio dai carboidrati, gli amminoacidi dalle proteine, gli acidi grassi dai lipidi e li porta verso i tessuti. Prevalentemente agisce su tre tipi di tessuti, che sono il fegato, il muscolo e il tessuto adiposo. Diciamo che oggi hai allenato le gambe e ti concedi una pizza o un sushi. Bene, quella bellissima fetta di pizza viene appunto ridotta in quei tre componenti che dicevamo. Carboidrati della pizza in glucosio, proteine della pizza in amminoacidi, grassi della pizza in acidi grassi liberi. Quindi la tua glicemia, la quantità di glucosio nel sangue, che generalmente dovrebbe essere tra i 70 e i 99, sarà molto più alta perché hai mangiato la tua bella pizza. E allora il glucosio vorrà entrare nelle cellule ma non può perché i cancelli, le porte delle tue cellule muscolari e del tessuto adiposo sono chiuse. Allora l'insulina apre questi cancelli permettendo l'ingresso dei nutrienti. E che cosa fa l'insulina in questi tre tessuti? Abbiamo detto che nel fegato promuove la glicogenosintesi, la sintesi di glicogeno, che è un polimero del glucosio, tante molecole di glucosio messe insieme formano questo zucchero di riserva, carboidrato di riserva, che è il glicogeno, inibisce la gluconeogenesi. Abbiamo anche da approfondire che cos'è. Negli adipociti invece, nelle cellule del tessuto adiposo, cellule grasse, inibisce la lipolisi, promuove la lipogenesi. Quindi fa sì che si formino i lipidi trigliceridi e inibisce appunto la rottura di questi grassi, la lisi, il catabolismo dei grassi, dei lipidi. Attenzione perché a livello cerebrale l'insulina è un ormone anoressizzante. Ah ma come Simo non fa ingrassare? L'insulina è un ormone anoressizzante, vuol dire che quando è in circolo ci toglie la fame. Certo perché noi mangiamo, si produce insulina per abbassare la glicemia, per fare tutte queste bellissime cose e non ci dovrebbe venire più fame. Attenzione perché nel muscolo non solo fa entrare il glucosio e stimola la sintesi di glicogeno all'interno del muscolo, ma stimola la sintesi proteica muscolare, che è proprio quello che vuole un bodybuilder, che vuole chiunque va in palestra a spingere il peso. In più inibisce il catabolismo proteico, quindi costruisce la sintesi proteica muscolare, costruisce muscolo e impedisce che questo venga catabolizzato e distrutto. Esattamente quello che voglia. Queste sono le funzioni dell'insulina. Volevo lasciare una recensione positiva a Simo perché è un grandissimo professionista, veramente uno dei migliori che abbiamo incontrato fino adesso. È in grado di prendersi cura della persona a 360 gradi. È in grado di seguirti su ogni aspetto della tua vita e ti fa migliorare anche come atleta seguendoti su tutti gli altri aspetti. Simone mi segue dal punto di vista nutrizionale, dal punto di vista di allenamenti e sin da subito si è rivelata una persona attenta, meticolosa, ha iniziato con lui un percorso di bodybuilding e soprattutto riesce a chiarirmi ogni mio dubbio. Non ho mai visto un preparatore con la sua preparazione, con la sua voglia di fare e con la passione che lui mi trasmette. Simone è una grandissima persona e grazie a lui anche nei momenti in cui avevo qualche dubbio, qualche difficoltà sono sempre riuscito a riprendermi, anche perché dove magari sbagliavo Simone mi dava una mano, mi correggeva. Simone mi aiuta sempre. Grazie Simo, sei il migliore e per me è un 10 su 10, lo consiglio a tutti. Attenzione però perché non tutte le insuline sono uguali, ci sono tanti tipi di insulina, o meglio l'insulina è un solo ormone, ma quella che noi possiamo iniettarci, assumere come farmaco è di tanti tipi e prima di andare ad analizzare questi tipi di insulina dobbiamo capire tre funzioni, tre parole. Onset, che cosa vuol dire onset? Onset è l'inizio, quando inizia a fare effetto l'insulina, quanto ci mette ad entrare in azioni, poi c'è il peak time, il picco, quanto ci mette questa insulina a raggiungere la sua massima potenza, il suo picco, quando il suo effetto è massimo. Dopodiché c'è la durata, ossia quanto ci mette questa insulina ad andarsene fuori dalle palle. Attenzione però perché le dosi di insulina che tanti coach, tanti preparatori danno completamente a caso, dipendono da un sacco di fattori, per esempio dipendono dall'età, da quanto sei attivo, da come riesci ad assorbire l'insulina e da quanto questa rimane nel tuo corpo, perché ci saranno sempre dei range, perché assorbimento ed eliminazione sono due fattori farmacologici che dipendono proprio dal soggetto, dall'età, dall'attività che fa e da alcuni fattori che noi non possiamo conoscere a priori. E allora tra i vari tipi di insulina noi dobbiamo distinguere quattro diverse famiglie, quella dell'insulina ultra rapida entra in azione in fretta e se ne va fuori dalle palle altrettanto in fretta, la rapida, quella intermedia e quella a lunga durata. Quindi qui abbiamo qualche valore di riferimento, poi i numeri possono un po' cambiare, talvolta non sono precisissimi, ma per esempio l'insulina ultra rapida o fast acting insulin, perché loro in inglese è fast o short. Fast noi diciamo ultra rapida, short è rapida. Fast è 15 minuti, cioè quindi la festa la prendi e poi mangi subito, perché in 15 minuti all'onset inizia ad avere effetto e il picco è tra i 30 e i 90 minuti, quindi va presa proprio poco prima di mangiare, subito prima di mangiare. E in 3-5 ore se ne va via. Perché mi sono soffermato su questa? Perché questa è quella più utilizzata, insieme alla lunga, nel bodybuilding, ok? Per esempio la Humalog si utilizza tantissimo anche nei diabetici, i diabetici sappiamo che sono soggetti che hanno bisogno di insulina perché non la producono, che sia diabete tipo 1 o perché la producono, ma i recettori non riescono a prendere il segnale che l'insulina dà. Poi ci sono tanti altri tipi di diabete, ma eventualmente ne parliamo in un altro video più approfondito. In genere si utilizzano tantissimi tipi di insulina, ma possiamo dire che l'Humalog è quella che va un po' di più tra l'insulina ultra rapida. Poi la invece insulina intermedia si usa pochissimo, short acting si usa anche, ma diciamo che nel bodybuilding e anche nel diabetico si usano più spesso. La lenta e la ultra rapida. La lenta si è sempre usato il lentus, l'antus si scrive, e questa appunto è un'azione lenta. Si prende prima di andare a dormire, ci mette una o due ore per entrare in circolo, dipende dal tipo di insulina che prendiamo, e può durare circa 24 ore. Ad oggi però, nonostante tanti bodybuilder vadano avanti con la lantus, si utilizza tanto Tresiba. Tresiba è un'altra insulina lenta, che però si è visto avere un minor tasso di casi di ipoglicemia, cioè quindi con Tresiba si riduce il rischio di ipoglicemia. Ecco, poi una cosa importante da dire che lantus e Tresiba in realtà non hanno picco, non hanno picco. La lantus può dare qualche risposta appunto ipoglicemica, Tresiba è molto più costante, quindi in sostanza il rilascio di insulina è costante nel tempo ed è molto molto lieve, basso, quindi una lenta, quindi poca insulina per tanto tempo. Invece quella ultra rapida tanta insulina ma per poco tempo. Mangio bisogno di tanta insulina per poco tempo perché poi se ne deve andare fuori dalle scatole, deve rientrare in gioco la grelina, un ormone prodotto allo stomaco che mi fa venire pane, che poi stimola il GH e bla bla bla, quindi il GH c'è alto quando l'insulina è bassa, quando l'insulina è alta il GH è basso e viceversa. Poi ci sono situazioni particolari dove possiamo avere non esattamente questo equilibrio. Ma vediamo perché non prenderla, perché puoi morire. Si chiama coma ipoglicemico, cioè l'insulina abbassa probabilmente tanto la luce, quindi il glucosio che abbiamo nel sangue da poterti provocare nausea, giramenti di testa e addirittura svenimenti e se non curata in casi estremi anche la morte. Ci sono tante storie, tanti bodybuilder che sono svenuti e sono stati rianimati poi dall'ambulanza dicendo ma tu che stai a fare? Qua c'è qualcosa che non va. Quindi dobbiamo sempre avere dietro le famose glucose tablets, le chiamano quindi le pastiglie di glucosio o comunque ci sono anche le bustine a prendere in farmacia di glucosio ma basta una bustina di zucchero per questi casi. Il bicchiere di coca cola, quindi la coca cola è insomma zuccheri da assumere subito in questi casi. C'è anche il glucagone, spray nasale, glucagone è l'ormone opposto, essenzialmente l'insulina che quindi è iperglicemizzante un po' come il GH, iperglicemizzante vuol dire che alza la glicemia, quindi contrasta proprio l'azione dell'insulina. È così pericolosa? La risposta è forse, perché dipende da te. La risposta può essere no perché altrimenti non la useremo come farmaco per circa 35 milioni di americani, cioè un americano su 10, circa il 10% è diabetico. Non per nulla infatti la vendono da Walmart. Al supermercato vendono l'insulina. Al supermercato vendono l'insulina. In Italia per averla devi fare chissà quali giri incredibili. Ah Massimo, mi scrive qualcuno nei commenti, ma perché in Italia non è legale il DEA, non è legale il pregnenolone? Ragazzi, perché non c'è fiducia? Ok? Ma anche per questo, cioè veramente negli Stati Uniti l'insulina è lì. Poi il punto è, se te ne vuoi sparare 100 mila unità e vuoi morire, è lì. Ok? Noi invece tendiamo a vietare tutto, ma anche qui parliamo dell'insulina che è meglio. 4 milioni di italiani invece soffrono di diabete e siamo al 7%, quindi non siamo tanto più bassi con le percentuali proprio perché stiamo andando verso una Western Diet che sta portando un aumento dei casi di diabete, soprattutto di tipo 2, chiaramente quindi diabete acquisito da uno stile di vita non così fantastico. Quindi se stai attento e monitori tutto è sicura, sicura, perché il bambino diabetico si spara l'insulina quando monitora e dice, oh caspita la glicemia alta, devo farmi la mia insulina. Ok? Il bambino diabetico lo sa perché è stato educato in questo. Il bodybuilder di 30 anni prende 10 unità così a caso, perché il suo concetto è di prendere 10 unità così a caso. Attento perché se non monitori rischi di andare in ipoglicemia e morire. Vediamo quindi quando non usarla. Se mangi, qui c'è una definizione scientifica, attenzione, ad cazzum. Mangiare ad cazzum vuol dire non avere una dieta, mangiare tutto quello che vogliamo a caso, senza pesarlo, senza nemmeno renderci conto di quali siano i macronutrienti. Quindi se le dosi di insulina vanno in genere regolate in base a quanti carboidrati assumo, che caspita pensi prendere l'insulina se non sai quanti carboidrati assumi, non sai quante calorie assumi, quante proteine, quanti grassi, di quanto hai bisogno. Se mangi ad cazzum, non prendere l'insulina. Quindi se non pesi il tuo cibo, non prendere l'insulina. Se non controlli i nutrienti, i macro, anche i micro, non prendere l'insulina. Altro punto che non fa nessuno. Se non controlli la glicemia, non puoi prendere l'insulina. Non puoi. Se prendi l'insulina devi controllare la glicemia, vedere quando è bassa e vedere quando è alta. Ah, Simo, ma io prendo l'antus. Come faccio a sapere se è tanto o poco per me? Allora, ci sono delle linee guida. 0,1, 0,2 unità per kg di peso corporeo. Va bene, ma poi che cosa dobbiamo fare? Ci svegliamo al mattino e facciamo la nostra glicemia. Porca miseria è 105, forse devo prendere un pochino di più la sera prima. Porca miseria è 65, forse devo prendere un pochino di meno la sera prima. Se io non monitoro, non posso sapere. Attenzione, c'è anche un altro problema. Se non sai la matematica, non puoi prendere l'insulina, ok? Non puoi assolutamente spararti l'insulina dalla tua siringhetta. Piuttosto prendi la pennina dove c'è già scritto quante unità ci sono. Perché se devi fare la conversione unità per ml, signori, questo è un errore che ho visto troppe volte, eh? Ah, devo fare 10 unità di insulina e ne ho fatte 100. Devo fare 10 unità di insulina e ne ho fatte 100. Capisci che se ne fai 100 la glicemia va tipo a 14, cioè è una roba incredibile, ok? E rischiamo seriamente di morire, perché devi fare 10 unità e ne hai fatte 100. Non sai fare le conversioni. Quindi, se devo fare la conversione, devo prendere tanto liquido quanto mi serve e devo essere un minimo capace di fare queste conversioni, quindi un minimo di matematica, la devo sapere. Altrimenti prendo la pennina dove c'è scritto esattamente 5 unità, 6 unità, 10 unità, 14, ok? Usa la pennina eventualmente. Altro punto, non prendere l'insulina se non sei preparato. Cioè, se non hai dietro, va, bustina di zucchero, di glucosio, la Coca-Cola, ok? Il glucagone eventualmente, ok? Devi essere pronto a rispondere a un'eventuale ipoglicemia. E riconoscere anche i sintomi. Lo senti? Ti senti un po' strano, un po' stanque? In quel caso, prima di iniziare subito a bombarti di zucchero, pum, pochettino, quanto ho di glicemia? Eh, ho 58. Eh, 58 è un po' pochino. Allora lì dobbiamo assumere dei carboidrati, possibilmente zuccheri che sono a rapido assorbimento. Ma vediamo perché si usa nel bodybuilding. Perché si dovrebbe usare nel bodybuilding? Signori, perché, l'abbiamo detto, aumenta la sintesi protetta. Quindi la massa muscolare. E per un altro motivo, perché riduce lo stress per il pancreas. Cioè, quando noi abbiamo i carboidrati altissimi e una glicemia alta durante la giornata, noi dobbiamo produrre tanta insulina. E far sì che il nostro pancreas lavori di meno, perché l'insulina già la prendiamo esogenamente da fuori, con le punturine, fa sì che il nostro pancreas ci ringrazia un pochettino. Cosa succede poi? Che nel bodybuilding si usa anche il GH. L'uso di GH può portare, chiaramente, ormone iperglicemizzanti, abbiamo detto, o è sull'insulina o è sul GH, generalmente, in condizioni appunto di omeostasi equilibrio. E un elevato e cronico utilizzo di GH può portare a una iperglicemia costante e di conseguenza a insulino resistenza e diabete tipo 2. Quindi l'utilizzo di insulina in questo caso è preventiva. L'utilizzo profilatico, la profilassi, difesa anticipata vuol dire profilassi. Quindi difendersi prima che arrivi qualcosa. Quindi due grandi motivi. Il primo è non diventare diabetici di tipo 2, quindi la prevenzione. E il secondo è l'anabolismo. Sintesi proteica muscolare aumenta poi lo stoccaggio di glicogeno perché entra glicogeno nelle cellule, tanta roba, avere tanto glicogeno fondamentale, fenomenale, specialmente anche tra un workout e l'altro. Davvero tante volte insulina poi si può usare appunto anche per le ricariche, eventualmente qualcuno lo usa po' perché aumenta il glicogeno all'interno dei muscoli. La glicogeno sintesi viene promossa proprio dall'insulina. Se non abbiamo insulina a fare la glicogeno sintesi è un po' difficile. E anche per un maggior, miglior partizionamento dei nutrienti puoi assumere più calorie e quindi spingere un po' più a lungo le tue fasi di massa. Vediamo però quali sono le bagianate. E attenzione, questa è legge. I carboidrati determinano l'insulina. I carboidrati decidono quanta insulina dobbiamo prendere e non il contrario. E non il contrario. Ah, prendi 10 unità di insulina pre-workout e 10 post-workout. Bene, quindi devo assumere 100 grammi di carboidrati pre-workout e 100 grammi post-workout. Non è così. Non è proprio così. Così, certo che divento grasso. Certo che così divento grasso. Divento grasso se ragiono così e se ogni volta che mi giro un po' la testa brum, mangio un frutto, mangio magari un dolce, una fetta di torta ancora peggio, ancora peggio. Certo, l'insulina fa ingrassare. Se la gestisci così, sì. Se tu rimani con le calorie costanti e fai sì che la tua dieta non venga modificata dall'utilizzo di insulina allora tu non ingrassi. Non ingrassi. Non ingrassi. Punto. Se la usi col cervello. Quindi quello che vedo è allora prendiamo 5 unità pre-workout quindi fai lo shaker con 50 grammi di ciclo d'estrine perché così assorbimento rapido e insulina non è così. Se già prendevo lo shaker con 50 grammi di ciclo d'estrine allora ha senso prendere l'insulina. Dopo. Se proprio voglio prendere. Se assumo 150 grammi di carboidrati pre-workout allora lì posso pensare di prendere l'insulina. Ma non di dire adesso ne prendo 300 di grammi di carboidrati così aggiungo l'insulina. E allora lì modifico la mia dieta. La dieta non deve essere modificata in funzione dell'insulina. La dieta non deve essere modificata in funzione dell'insulina. Ok? Quindi non è l'insulina a determinare la quantità di carboidrati ma è la quantità di carboidrati a determinare quella di insulina. Ok? Quindi io prendo la mia dieta e dico ok dove posso usare l'insulina qui? Benissimo. La uso pre-workout bene. Quanti carboidrati sto assumendo pre-workout? 100 grammi. Bene. Prenderò x unità di insulina. 10. Poi in realtà vediamo che è meglio prenderne 5. Come dicevamo le più utilizzate nel bodybuilding sono 2. La lantus lenta. Lantus. E appunto quella lenta. E la humalog. L'istro. Con indicazioni generiche per humalog. Quindi un'unità di insulina ogni 10 grammi di carboidrati. In realtà consiglio di partire con... Si consiglia di partire nel bodybuilding con un'unità ogni 20 grammi perché un'unità ogni 10 grammi è per il diabetico non per la persona che già un po' di insulina la produce. Ok? La lenta generalmente tresiba o lantus si prende alla sera per andare a dormire però nel bodybuilding si utilizza anche sera e mattina. Si può prendere anche solo al mattino ma generalmente viene prescritta non ha picchi quindi è molto poco probabile il rischio di ipoglicemia come dicevamo. E anche qui l'antus è stata nell'ultimo periodo sostituita da tresiba. Oramai quasi tutti usano tresiba. Parliamo di ingrassare. Allora l'insulina è un ormone anticatabolico abbiamo detto. Quindi blocca la lipolisi, la scissione, la rottura degli acidi grassi. Allora il consiglio è se dobbiamo usare l'insulina lenta quei giorni tenere il più possibile bassi i grassi per evitare appunto, visto che c'è un pochino più di insulina in circolo visto che la liposintesi viene stimolata la sintesi di lipidi, di trigliceridi nello specifico e viene bloccata la rottura di questi, oh non l'ho detto la rottura di questi trigliceridi, degli acidi grassi allora meglio stare bassi con i grassi anche perché poi teoricamente dovremmo già avere i carboidrati molto alti se prendiamo l'insulina lenta in teoria se abbiamo fatto le cose con un minimo di cervello e quanta prenderne di questa lenta le indicazioni come dicevamo sono di 0,1 o 0,2 unità per kg di peso corporeo quindi se peso 100 kg prendo 10 unità o 20 unità consigliamo sempre peso 100 kg inizio a prenderne 10 unità la sera mi sveglio al mattino faccio il mio buchino e vedo quant'è la glicemia è 90? Va bene è 85? Va benissimo è 70? Forse un po' pochino forse ne ho presa troppa ne prendo un'unità in meno è a 110? Forse ne ho presa troppo poca devo prenderne qualcosina in più provo con un'unità in più ok? Un'unità alla volta al massimo due non di più la rapida per promuovere l'anabolismo viene utilizzata prevalentemente quella rapida è quella che interessa di più al bodybuilder perché in quel momento vuole che tutti i nutrienti e la sintesi proteica muscolare sia massima intorno all'allenamento quindi vero che sento tanti esperti dire che l'alimentazione per i workout non è più così importante sì, vero, a livello scientifico verissimo a livello scientifico peccato che diciamo sempre che c'è la scienza e la broscienza e se parliamo di broscienza, broscience signori io non vedo, non vedo un bodybuilder da tanti anni a questa parte ho visti centinaia che non ottiene risultati senza un'accurata alimentazione per i workout, intorno al workout pre e post e anche intra workout quindi potrebbe ottenere gli stessi risultati anche senza questo tipo di accorgimento? è probabile li ottiene con questo tipo di accorgimento? sì perché andare a modificarlo? non capisco cioè anche se fosse solo effetto placebo chi se ne frega? il fine giustifica i mezzi di conseguenza se il mio atleta sta bene ottiene risultati con questa alimentazione che magari non è così utile chi se ne frega? ottiene risultati? va bene ma scientificamente non me ne frega puoi scrivermi tutti i paper del mondo pubmed mi fai vedere tutto quello che vuoi ah Simo lo dice pubmed bellissimo ah Simo lo dice pubmed mi fa morire mi fa impazzire fantastico lo dice pubmed allora è vero è vero senza pensare che ci sono sotto i finanziamenti gli studi sbagliati lasciamo stare quindi conta tanto anche la pratica lo dice uno che ha studiato dieci anni che ha tre lauree però conta tanto anche la pratica perché? perché signori purtroppo dobbiamo sempre saper interpretare quindi anch'io pensavo che l'alimentazione per il workout non fosse così fondamentale dice ma no tranquillo vai a casa poi mangi e invece può essere anche solo un effetto placebo ma quando vedo il bodybuilder che mangia quella bella crema di riso o i cereali i cornflakes non li posso vedere ma questi mangiano i cornflakes nello spogliatoio della palestra ha un senso un perché il punto è ottieni i risultati sì vai avanti così vai avanti così i risultati te li fa ottenere quella tazza di cornflakes che ti mangi in palestra forse no ma è tutto collegato nel processo e allora ti dico vai avanti così anche qui se prendiamo l'insulina rapida dobbiamo sempre avere sempre essere sicuri di aver assunto i carboidrati prima del nostro allenamento e di avere eventualmente uno shaker con dei carboidrati da bere intra workout in base alle nostre esigenze dicevamo che i protocolli più utilizzati sono spesso di dieci unità così a casaccio si usano così 5 pre workout 5 post workout oppure 10 tutti i pre workout ok solo post si usa un po' meno generalmente si fa pre e post ma poi anche qua dipende sempre da quanti carboidrati assumi da quando li assumi da quali sono le tue esigenze non c'è un protocollo che va bene per tutti va studiato va provato e va studiato prove ed errori e poi si vede e si va ok l'importante è capire quali sono onset peak durata quanto durano le varie insuline quanto ci mettono a entrare in circolo se lo sai e se hai il loro effetto e monitori con il glucometro puoi benissimo gestirla super tranquillamente quindi nonostante le indicazioni per i diabetici siano di un'unità di insulina ogni 10 grammi di carboidrati un bodybuilder che non è diabetico può partire con 20 grammi di carboidrati quindi un'unità di insulina ogni 20 grammi di carboidrati perché noi produciamo già una quantità che è generalmente sufficiente di insulina se noi parliamo di bodybuilding in est non natural questa sostanza signori può giocare un ruolo fondamentale fondamentale nel promuovere la sintesi proteica muscolare l'insulina viene spesso definita un game changer tanti ne parlano male Dora Iez ne ha parlato male Anna è solo sporcato però tanti zitti zitti non dicono niente ottengono risultati ora quello che vedo è che c'è troppa 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 disinformazione basta con questa unità di insulina date a caso basta non monitorare basta non pesare non sapere cioè non esiste questa roba qui ah Simo che cos'è il glucometro? ma come? ma ti fai di insulina da un anno non sai che cos'è il glucometro? cioè è pazzesco quello che accade è pazzesco quello che accade tutti i giorni con i giovani bodybuilder italiani o aspiranti itali o anche palestrati anche se quando parliamo di insulina parliamo già di bodybuilding quindi può capitare qualche palestrato che prenda testosterone anavar magari anche altre robe un po' più pesanti ma in genere l'insulina la prendono solo quelli che sono effettivamente dei bodybuilder o aspiranti itali però nel 90% dei casi la prendono in modo sbagliato con unità fatte completamente a caso date completamente a caso dai loro coach 10 unità perché ti do dare 10 unità 20 unità perché cresci di più perché sei grosso 20 unità perché sei grosso pesi già 100 kg ti do 20 unità 20 unità la sera 20 unità al mattino 20 unità pre-workout così signori non esiste cioè veramente ci stiamo facendo del male stiamo attenti stiamo attenti cerchiamo di capire queste cose qui e se hai intenzione di usare l'insulina mi raccomando monitora monitora sempre importantissimo e allora c'è tanto tanto altro da dire sull'insulina se ti è piaciuto questo video magari poi mi scrivi in un commento Simo fai la parte 2 dove parli anche di questo quello quell'altro perché mi rendo conto che c'è ancora tanto tanto altro da dire nella speranza di non averti annoiato perché lo so sono un maledetto nerd e di averti dato qualche informazione importante per te e per la tua vita di averti fatto capire quali sono le bagianate dell'insulina seguimi seguimi quando andremo nel mare del nord ci facciamo un giro magari in Danimarca a Svezia quelle zone lì molto bello su Instagram Facebook e TikTok mi raccomando sempre troppo sbatti anche al freddo svedese finlandese e riversi ancora di più perché lì però non sbatti di muovere il mouse fa freddo non mi rompere le scatole sì e vieni sul gruppo Telegram e se sei uno sportivo giochi a tennis a padel a calcio a basket sei un bodybuilder e vuoi cambiare la tua vita hai bisogno di un coach ma non di un coach che ti dà le unità di insulina a casa di un coach che ti segue e sa quello che stai facendo che ha studiato 10 anni che ha più di 15 anni di esperienza e che una volta che lo prendi finita perché ti segue questo ti rompe le palle dalla mattina alla sera ogni volta che sbaglio è lì programmi di allenamento sul mio sito unici diversi provali perché ci metto tutto passione 10 anni di studio più di 15 anni di esperienza tutto in un programma di allenamento e allora noi ci vediamo al prossimo video super anabolico saluti